Grazie Presidente, in questo emendamento numero 2 all'articolo 5,3 vogliamo ribadire in maniera ancora più chiara e semplice che oltre ad avere i prodotti prevalenti, quindi un imprenditore agricolo, quindi prodotti della propria azienda, quelli non prevalenti devono comunque essere sottoposti a delle regole di territorialità e di vicinanza e di tutte quelle tutele che sono previste al comma 2 per le aziende definite fornitrici, quindi comunque stiamo parlando di mercati agricoli che devono vendere prodotti genuini della terra, possibilmente più vicini possibile ai territori e questo ci temiamo a ribadirlo perché sembra un'ottima innovazione ed è quello che molti clienti, utenti e cittadini cercano nel mercato agricolo oggi e possono trovare in parte anche nei mercati di Roma Capitale, qui però nei mercati agricoli possono essere presenti solo prodotti con queste caratteristiche. Grazie.